Si è conclusa con un lieto fine la disavventura di un sessantenne che vive al di fuori della provincia nissena, il quale alcuni giorni fa si era allontanato da casa propria facendo perdere le proprie tracce. I poliziotti del commissariato di Niscemi lo hanno infatti rintracciato all'interno del comune del Nisseno, dopo che l'uomo aveva trascorso alcuni giorni pagando senza meta e dormendo in auto. Agli agenti il sessantenne ha spiegato di avere problemi personali e quindi aveva deciso di andare via di casa. A dare l'allarme era stata la compagna dell'uomo non avendolo visto rincasare e subito la polizia aveva avviato le ricerche. Condotto in commissariato il sessantenne è stato rifocillato e rassicurato dagli agenti che hanno avvisato i familiari del ritrovamento. Nell'auto gli agenti hanno trovato del materiale acquistato poco prima dall'uomo che faceva pensare all'intento di compiere un gesto estremo. Una volta compresa la situazione i poliziotti hanno invitato l'uomo a dare rassicurazioni alla compagna sul proprio stato di salute. Grazie. Grazie.